False attestazioni del reddito per ottenere indebitamente esenzioni o riduzioni delle tariffe per servizi come le mense scolastiche, le tasse universitarie o il ticket sanitario. Nei primi tre mesi dell'anno, la Guardia di Finanza di Como ha accertato prestazioni agevolate per oltre 20.000 euro, ottenute presentando certificazioni non corrette. I contratti delle fiamme gialle riguardano le autocertificazioni sui requisiti previsti per ottenere i benefit concessi ai redditi più bassi. La Guardia di Finanza, incrociando le informazioni di diverse banche dati, ha scoperto false dichiarazioni che hanno permesso a cittadini che non ne avevano diritto di ottenere l'agevolazione sui servizi sanitari e scolastici e sugli affitti. Tra le situazioni più estreme, le fiamme gialle hanno scoperto casi in cui il reddito accertato è risultato il doppio di quello dichiarato nella domanda di agevolazione, ma anche la mancata dichiarazione di una seconda casa o addirittura di persone con un reddito che fanno parte del nucleo familiare. Le somme ottenute indebitamente dovranno essere restituite e sono previste inoltre sanzioni amministrative da 5.000 a 25.000 euro per ogni beneficio ricevuto senza averne diritto. Il denaro recuperato viene poi messo a disposizione di chi ne ha realmente diritto.